Sono stati ufficializzati i tre gironi del prossimo campionato di Serie C, al quale prenderanno parte 56 squadre. Il Consiglio federale della FIGC, presieduto da Carlo Tavecchio, all'unanimità ha accettato la domanda di ripescaggio in Serie C presentata dalla Triestina, ma non ha accolto quella del Rende e del Rieti. Questa sarà dunque la composizione. Girone A formato da 20 squadre, Girone B e C da 18. Come previsto e anche come più logico, le Toscane sono tutte nel Girone A, come nella scorsa stagione. Pistoiese, Arezzo, Prato, Carrarese, Pisa, Pontedera, Siena, Lucchese, Livorno e Gavorrano. Oltre alle rappresentanze Sarde, Arzachena e Dolbia, Piemontesi, Alessandria e Cuneo, Lombarde con Gianna Erminio, Monza e Renate, Emiliane, Piacenza e Propiacenza, più la Viterbese. Tanti quindi i derby per la Pistoiese anche nel campionato 2017-2018. E visti i nuovi gironi, la domanda che sorge è quella del regolamento circa le retrocessioni in Serie D, che l'anno prossimo saranno in totale 5. E qui ci sarà da vedere come saranno regolate. Malumori prima della nuova Serie C. Sì, secondo le ultime indiscrezioni, i giocatori sarebbero addirittura pronti a non scendere in campo in occasione della prima giornata di campionato, prevista per il 26 agosto prossimo. Il presidente dell'Associazione Calciatori, Damiano Tommasi, avrebbe preannunciato uno sciopero infatti da parte dei calciatori, dopo che il Consiglio federale ha imposto la Serie C a 56 squadre. E dopo che in occasione dello stesso Consiglio è stato approvato l'obbligo per ogni società di includere in ogni lista 14 calciatori over, nati prima del 1 gennaio 1995, invece dei 16 della scorsa stagione. Inoltre si sarebbe deciso di fare estendere il termine per il pagamento dello stipendio per i tesserati al 19 settembre e non più al 21 agosto. Diversi quindi gli scenari che potrebbero aprirsi a seconda dei meccanismi che saranno adottati, per i quali ci sono comunque da attendere comunicazioni ufficiali.